Nel pancione Paolo è ravvolto da tanta morbidezza, poi è nato e ho ricreato intorno a lui quella stessa morbidezza. Ma non credevo che anche i pannolini ne facessero parte, poi ho pensato che li indossa giorno e notte, ecco perché amo i nuovi Pampers Premiums. Da oggi i Premiums hanno il nuovo soft system che lo circonda di morbidezza sia dentro che fuori. Fuori hanno un morbido rivestimento tipo cotone e dentro una fascia morbidissima in vita. E con l'esclusivo sigilla PP Plus come sempre tengono la sua pelle bella asciutta. Per lui i Premiums è morbidissima, proprio come me. Nuovi Pampers Premiums con soft system, bambini più asciutti, bambini più felici. Che ha detto? Prosciutto mi pare. Ok, se non c'è altro. Non lo mangio nemmeno in Italia, figura. Peter Sir. Beh, non sembra male però. Fammi sentire. Buono. No, questo non è il prosciutto. Dolce. Guarda cos'è. Prosciutto del Consorzio di Parma. Cavaliere! Oh, viva l'Italia. Sì, ma mangia te il tuo. Il Consorzio garantisce quello dolce e il crudo di Parma. Con Mocio Vileda. Tutto lo sporco lo strizzi nel secchio. Proprio tutto perché Mocio Vileda ha il nuovo strizzatore. Lui strizza a fondo e tu pulisci meglio perché hai 16 braccia in più. Mocio Vileda. Pulito a specchio, tutto nel secchio. C'è una perla affascinante come una donna dai mille volti. Bellissima. Il suo nome è Calabria. Calabria. Mediterraneo da scoprire. Grazie a tutti. Complimenti, Aldo. È dolce. Merita la corona di Parma. Il Consorzio garantisce quello dolce e il crudo di Parma. Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come quelle dei figli. voglio una vita esagerata. Voglio una vita con questi tre qui. Voglio una vita che non è mai tardi. Di quelle che non dormi mai. i bambini. Meno male che ci sono. E meno male che c'è Chico. Chico. Dove c'è un bambino? il vincitore. Il vincitore. Il vincitore. Un bambino di mille dollari o chi leva la mosca dall'uomo del mistero. C'è soltanto una cosa che rende bene oggigiorno. Il crimine. Però... Ci piacete. E niente non che fossero... Bud Spencer, Giuliano Gemma. Anche gli angeli mangiano fagioli. Venerdì alle 20 e 30 su Italia 1. Io era un po' che lo tenevo d'occhio. È per questo che mi ero messo addosso queste schifette. Espirandolo Guani. Emanuele petals. Uccitore. Emanuele focalizzare. Puoi. Puoi.